Accantonati i fasti, Ghirigori e la goliardia del Carnevale si entra nel tempo penitenziale della Quaresima. Un cammino verso la Pasqua fatto di discernimento, preghiera e introspezione, le tre parole chiave che il Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e Vescovo della Dioce Sidiacileale, Monsignor Antonino Raspanti, ha voluto evidenziare nel suo messaggio alla comunità e che ribadirà nel corso della celebrazione eucaristica alle 18.30 nella Basilica Cattedrale di Iacileale, con il rito delle imposizioni delle ceneri sul capo dei fedeli. Introspettivo, appunto, dove il cristiano possa guardare dentro di sé, ritraendosi per quanto possibile pochi minuti al giorno o qualche ora da tutto quello che lo circonda, violenza, aggressione, distrazioni, amarezza per ritrovare con Gesù la perfetta riconciliazione con se stessi. Una bella opportunità di prepararci alla vita, alla rinascita, alla riconciliazione, al perdono come la Pasqua, ma dobbiamo prepararci appunto, cioè significa riprendere un cammino dentro di noi. 40 giorni per riscoprire bellezza e gioia, per guardare attorno a noi, agli avvenimenti e alle persone con occhi nuovi, prima ancora di singoli fioretti, protesi verso la Pasqua della vita. Nel suo messaggio alla comunità, ancora parole di riflessione da parte del Vescovo, con l'augurio di un buon cammino quaresimale. E dunque è un tempo di penitenza, sì, ma la penitenza nel senso proprio di riforma di sé stessi. Direi che il primo punto, prima ancora di singoli fioretti, è questa decisione di ritrarsi e rifugiarsi nel proprio cuore, dove incontriamo Dio Cristo nella pace e ritroviamo la sua parola che ci riconcilia, che ci risana, che ci perdona e che ci rimette nella relazione con gli altri e con il mondo, con una vita rinnovata.